Le due squadre ripescate, ovvero la 19esima e la 20esima del campionato di Serie A2 di Hockey su pista, sono Trissino come seconda della Final Fall A di Serie B e Hockey Pico come terza della Final Fall A di Serie B. Il girone A del campionato di A2 quindi sarà 11 squadre, mentre il girone B rimane a 9, che fa sì che le due retrocessioni alla Serie B saranno le due ultime classificate del campionato di A2 del solo girone A. Il campionato prenderà il via sabato 7 dicembre, mentre la Coppa Italia sabato 28 settembre. Il girone A è composto da Breganze, Correggio, Modena, Montecchio Precalcino, Roller Bassano, Scandiano, Seregno, Tiene, Trissino, Valdagno. Il girone Biro, Telissica, Camaiore, Castiglione, Follonica, Roller Matera, Prato, Pumas, Viareggio, Salerno, Sarzana, Viareggio. La Coppa Italia è composta da quattro gironi, dal 28 settembre al 30 settembre si giocherà la prima fase. Le 20 squadre iscritte sono divise in cinque gironi. Il girone G, Rotellistica, Camaiore, Prato, Viareggio, Sarzana, Viareggio, Hockey. Il girone D, Castiglione, Follonica, Roller Matera, Roller Salerno. Le quattro vincitrici dei gironi si sfideranno nelle semifinali che saranno giocate in un'unica sfida in casa della miglior classificata al termine del girone di andata.